Il Paradiso, trama 5-11, Maria scopre che Matteo ha truffato Barbieri. La puntata del Paradisi delle donne, che andrà in onda su Rai 1 martedì 5 novembre alle 16, sarà quella che deciderà il futuro di una delle coppie. Maria infatti scopre i dettagli della truffa di Ofer e apprende direttamente da Matteo cosa ha architettato alle spalle di Barbieri. Intanto Marcello rivela a salvo e rosa le azioni del fratello, e Umberto teme di perdere la fiducia di Marta. Matteo si reca a Parigi per dire a Maria la verità sulla frode di Ofer. La notizia della relazione di Ofer, comprese i suoi dettagli, sarebbe diventata così pubblica che, per evitare che storie spiacevoli sul suo conto arrivassero alle orecchie della sua ragazza. Maria scoprirà quindi in prima persona da Matteo cosa ha fatto alle spalle di Marcello diversi mesi fa. È volato a Parigi per riferirlo di persona. Intanto il contabile del Paradisi delle Signore si convinse di aver perso la fiducia del fratello. Intanto Irene Cipriani sarà impegnata ad organizzare una festa di compleanno a sorpresa per Alfredo Perico. Nel frattempo anche gli altri due apprendono i dettagli della truffa Ofer. Marcello rivela a Salvo e Rosa che Matteo lo ha tradito. Marcello Barbieri, infatti, informò anche Armando Ferrari se altri due coinquilini, Rosa Camilli e Salvatore Amato. Di sapere che suo fratello Matteo lo aveva pugnalato alle spalle, e poi disse a Umberto che avrebbe ritenuto opportuno mettersi in combutta con Guarnieri. Le cose non sono rosee per Villa Guarnieri. Umberto sarà seriamente preoccupato di non riuscire mai a riconquistare la fiducia e la gratitudine di sua figlia, ma Marta sarà pronta ad affrontare la zia. La giovane Guarnieri si arrabbierà con Adelaide per averle nascosto la verità sull'inganno di Ofer e sui piani di suo padre dietro Marcello, e per aver persino ricattato Matteo e Silvana. Riepilogo episodio precedente, Silvana ha parlato con Marcello nella precedente puntata del Paradisi delle donne, andata in onda su Rai 1, Marcello aveva scoperto i dettagli della truffa di Ofer. Barbieri si ricò a Francoforte e parlò con la segretaria dell'imprenditore tedesco, apprendendo che Matteo gli aveva fornito resoconti finanziari falsi che lo portavano a credere che l'azienda di Ofer fosse sana e non in perdita. Marcello tornò quindi a Milano e, arrabbiato con il fratello, lo affrontò. Silvana si reca quindi nell'ufficio di Barbieri e cerca di convincere il direttore a capire perché Matteo viene ricattato da Umberto.